benvenuti ragazzi in questo primo video di avanti l'altro perché avanti un altro era brutto l'hanno chiamata avanti l'altro iniziamo subito dobbiamo fare tre risposte giuste la feta greca si produce con quale latte vacca o pecora? pecora ok giusto lo squacquerone così squacqueroso perché è formato per il 60% d'acqua parliamo di formaggi svizzeri gruviera è mental sono la stessa cosa? no ragazzi tutti e tre giusti nel football quiz non sarò così bravo però qua sono forte 15.000 l'arbitro di calcio in serie A anche l'arbitro come i calciatori ha il proprio numero sulla maglietta non è così l'arbitro può essere no l'arbitro scusate può espere un giocatore seduto in panchina? sì la fine mondiale di calcio del 2014 è stata diretta da un arbitro italiano? eh sì giusto è così era giusto vediamo cosa troviamo ed è un 40.000 in che regione si trova nella città no si trova la città di cosenza? calabria in che regione si trova la città di cremona? basilica no lombardia scusa in che regione si trova la città di massa? toscana perché mi friuli in che regione si trova la città? l'aquila abruzzo perché c'è nato mio nonno in teoria in abruzzo l'aquila cioè o da qualche parte d'abruzzo o in aquila prossima domanda l'india ha la forma di una mano? no la bandiera dell'india arancione bianco e verde a strisce orizzontali? no era sì scusato sbagliato l'india ha più di un miliardo di abitanti? sì la capitale dell'india è nuova delti? no no ragazzi abbiamo perso no dobbiamo riniziare riniziamo subito inizia guerra e anni quando è avvenuta la seconda guerra punica? questa la so perché l'ho studiata prima quando è avvenuta la seconda guerra crociata? sì quando è avvenuta la guerra del peloponeso eh ragazzi non ci sono ancora arrivato ma è questa sì ragazzi tutte giuste due non studiate una sì incredibile ooooh 50.000 è la versione a 72 ok primo step mettere in ammollo il baccalà per almeno 24 ore in acqua fredda secondo step scolare il baccalà togliere le squame e tagliarlo a pezzi liberandolo dalle spine preparare un soffritto con olio aglio e cipolla aggiungendo no ragazzi terzo step mentre i pezzi del baccalà stanno rosolando in padella mescolate un po' di farina in una sì è scritto interesting sfuttare il composto nella padella aggiungere del prezzemolo e del formaggio grattugiato e fatte cuocere a fuoco lento eh eh quattro ore manco eh eh c'è cinque minuti è un po' troppo poco ok abbiamo fatto meglio le prime parenti a chi va la tua età la tua eredità scusate se non hai fatto testamento e non hai parenti fino al sesto grado alla chiesa nooo potevi mettere comunque per leggere potrebbero per leggere potrebbero sposarsi zio e nonne nipote eh nonna nooo abbiamo sbagliato ok pesci o uccelli chi dorme non piglia pesci come? ah al contrario il sindaco o il papa chi viene letto nel conclavale il papa ah ok pesci o uccelli pesci no uccelli ok sindaco si o no su minareti ci sono le campane si ok crostata o ciambella cosa indossa chi galleggia crostata 4100 o 5000 quanto fa 4000 ok no cosa metto il contrario ferrari o bmw ferrari o bmw quale azienda automobilistica italiana ferrari ferrari però dobbiamo mettere bmw volga o dannubio qual è il fiume più lungo d'europa il volga nooo sto sbagliando tutto ragazzi nooo ragazzi no ragazzi non ce la posso fare 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 me ne sono dimenticata nooo di nuovo devo rifare e allora nooo perchè le sto mettendo giuste io devo mettere le sbagliate ma ce la puoi fare si sindaco si crostata 5000 fondo parigi new york in quale città c'è il teatro il tico nooo ragazzi difficilissimo eh no basta indietro facciamo il gioco normale perchè è stra difficile sede olimpiadi dove si svolsero a mosca no bene dove si svolsero le olimpiadi londra atene ragazzi non riesco perchè adesso mi chiede i cookie ma ora sto qua eh c'è pubblicità ti pareva si può giocare in pace nooo via pubblicità perdo minuti ok Washington ottiene un grande successo a Saratoga era il ok il 1937 vengono tossati i giornali e i libri venduti in america stampa era il ok la resa del generale cornwiles era il 75 no gli rimposti la tassa sul bollo era il nooo ragazzi è stato difficile dei vertebrati sì la balenotte era azzurro un pesce falso mammifero come viene anche definita la crisalide farfalle nooo un maggiolino e sia un modello di macchina che insetto easy 20.000 qual è la madrelingua più parlata nell'Unione Europea inglese nooo come giusto in inglese non c'è più in che lingua furono scritti i vangeli oramai oh mio dio sono così scarso ma di un scarso la tradizionale maglia dei gondolieri o venezia come il cavalluccio marino nuota sempre in verticale ok l'ottavino è un piccolo flauto che quando lo suoni sta in posizione verticale nooo ma non era il flauto attraverso dai grazie a dio che non vado a far flauto perché se no ero messo male a che oceano appartiene la manica dai a che oceano appartiene il mare glaceo atlantico artico eh vabbè cioè sto sbagliando ragazzi ultima volta appena sbagliamo basta chi ha detto di disse stesso sono il più grande atleta vivente chi ha detto che il papa in persona prega per lui tutti i giorni nooo chi ha detto di essere la terza divinità di Napoli dopo San Gennaro e Maradona ok occhio chi ha detto sono molto traversale mi piace quella tv che sa raccontare il passato ma sono anche amato dai giovani cristiano ma il gioglio ragazzi continuiamo con il video incredibile hai peschiato mille capirai in che ragione si trova la città di Enna Sicilia in che ragione si trova la città di Isernia Molisa ok in che ragione si trova la città di Isondrio Abruzzo no come l'Umbordio in che ragione si trova la città di Urbino Marche si non ci credo oh ho pensato di aver sbagliato mi sono sentito male perché pensavo di aver sbagliato quale attrice ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 2021 troppo l'angolo quale attrice ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista ok quale attrice ha vinto l'Oscar come migliore attrice nel 2017 si ok quale attrice ha vinto l'Oscar come migliore attrice di 2014 si continuiamo ancora ragazzi è credibile è vinco si è indovino giusto quale banca della fisica no quale branca della fisica non può essere né creata né distrutta ma può essere trasformata in una forma all'altra ok quale quale simbolo ha l'ittrio nella tavola periodica k no ragazzi quale è il secondo pianeta più grande del nostro sistema solare urano saturno che cos'è l'associazione di Fibonacci Fibonacci è un matematico ragazzi incredibile stiamo continuando ancora con il video verrà lungheissimo sto video te la dobbiamo dobbiamo battere come come se chiamanta ok a caso può adesso ok ok oh mio dio ragazzi non so non so non capisco Roma si ragazzi incredibile ok qua sbaglierò di sicuro perché è impossibile che faccio ancora giusto e ce l'abbiamo fatta ok ok no ragazzi non riesco non riesco non neanche studiate il stero bistorio in qualsiasi materia le so non so perché no ragazzi ma perché io voglio sbagliare mi ha messo a caso era giusto perché voglio sbagliare noioso dopo se non voglio tutti no ho sbagliato no come eris ma non esiste e vabbè sbagliato e finisce qui questo video finalmente dopo tanto finisce e da noi è tutto alla prossima ciao